Ciao, sono Alice! Vuoi vedere il nuovo volantino? E dai, partiamo allora! Ruota il cellulare, vedrai il video nel modo migliore! Vuoi vedere un altro volantino? Scoprilo subito su trovavolantini.it Se vuoi scoprire tutti i segreti dei volantini e fare i tuoi acquisti in modo ancora più consapevole, visita anche il mio blog su trovavolantini. Siete in tantissimi a guardare i nostri video su trovavolantini, ma non tutti ci seguite! Ricordate, iscriversi è gratis, vi basta un click, ma per noi fa una grande differenza! Ricordate, iscriversi è gratis! 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 Grazie a tutti. Vuoi le offerte migliori direttamente sul telefono? Iscriviti al nostro canale WhatsApp. E tu, in quale negozio vai? Scrivilo nei commenti. Su TrovaVolantini.it le offerte della tua città a portata di un clic. Scriviti al nostro canale.it le offerte migliori direttamente sul telefono. For the things you know you'll love. Do what you think is right. And she'll like do what you want. So fight and fight and die. For the things you know you'll love. Do what you think is right. And she'll like do what you want. So give me all the scars. I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start. You had problems with me. And the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain you already know. Turn that to games like my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never run. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere prodotti migliori direttamente sul telefono. Che ne pensi di queste offerte? Scrivi nei commenti e aiuta gli altri a scegliere condotti migliori direttamente sul telefono. Che ne pensi di queste offerte? Sì. Grazie a tutti. Vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video, se avete domande o commenti non esitate a scrivermi qui sotto. Ci vediamo al prossimo video su Trova Volantini. Ciao!